Giovanni Pinna, titolare di e-commerce agency, qual è la vostra mission? L'obiettivo della mia attività è quello di aiutare le piccole e medie imprese e i libri professionisti a promuoversi su web e sui social, ottenendo risultati concreti, quindi lavorando per ottenere nuovi clienti e riuscire a fidelizzarli. E-commerce è un mondo ancora misterioso, voi aiutate le aziende e adesso sbarcate ad Alghiero. Sì, con due segmenti di attività, uno rivolto a chi ama imparare e formarsi, quindi dei corsi di formazione e invece l'altro, quello delle consulenze, legato a chi preferisce delegare. In particolare ci sarà una classe a ottobre ad Alghiero, l'11 e il 12 ottobre, di social media marketing, quindi un corso numero chiuso per chi desidera imparare a promuoversi e a gestire la propria comunicazione sui social media. Il corso avrà sede nella mia attività ad Alghiero, in via Giovanni XXIII numero 27, sede che attiva tutto l'anno anche con corsi personalizzati e come luogo di riferimento per i clienti che soffriscono delle consulenze. I riferimenti sono il sito web www.e-commerce-agency.it o l'indirizzo email info-e-commerce-agency.it con tutti i riferimenti disponibili anche sui canali social. L'obiettivo di questo corso è arrivare a risparmiare oltre 3.000 euro all'anno che i titolari di impresa normalmente scelgono di spendere per poter delegare questo tipo di consulenza. Grazie al metodo che miro a trasmettere all'interno del corso, sarà possibile iniziare a lavorare in autonomia nella gestione di questi canali, valutando poi in seguito se delegare internamente o esternamente alla propria azienda.